Ciao a tutti, bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italiano C'è posta per te, uno dei programmi di Maria De Filippi più amati dal pubblico di Canale 5 I telespettatori, però, sono sempre più curiosi di scoprire cosa accade durante le riprese dei postini . Postini di Che è posta per te.Il sabato sera c'è chi preferisce uscire con gli amici e chi rimane a casa a guardare la storica trasmissione di Maria De Filippi, c'è posta per te Da anni ormai, il programma conquista il pubblico a casa, ottenendo sempre un boom di ascolti incredibile Ma sapete cosa accade durante le riprese di una consegna? Impensabile I postini di Che è posta per te.I postini sono i veri protagonisti di Che è posta per te Con la loro bicicletta raggiungono le persone in tutta Italia per consegnare la famosa busta con l'invito a presentarsi in trasmissione Il loro ruolo è fondamentale, ma chi sono? Non sono proprio dei volti sconosciuti Infatti, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi sono due extronisti di Uomini e Donne, Marcello Mordino è un attore e comico, infine Chiara Carcano è una nota conduttrice radiofonica Sono loro le persone che consegnano l'invito per partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi Ma durante la consegna dell'invito cosa accade? Scopriamolo insieme I postini di Che è posta per te.l' incredibile retroscena.Marcello Mordino Lo storico postino di Che è posta per te, durante un'intervista ha svelato alcuni retroscena inediti sul programma e sul suo ruolo che ormai svolge da ben 23 edizioni Punto L'uomo ha raccontato che può sembrare un lavoro facile, ma non è proprio così, le consegne non sempre vanno a buon fine Però anche se ci sono degli imprevisti, la trasmissione regala sempre delle bellissime emozioni, infatti, anche i postini si commuovono dietro le quinte Ma durante la consegna cosa accade? Nelle scorse ore è diventato virale un video sul web in cui si vede proprio Gianfranco Apicerni con la sua inseparabile bicicletta, ecco quel che succede C'è posta per te è un programma di successo, un appuntamento a cui milioni di telespettatori non possono rinunciare Tutto questo è grazie all'enorme sensibilità di Maria De Filippi e alla professionalità dei postini che riescono ogni volta a rendere tutto più magico Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao